Un SMS per pagare il parcheggio succede a Padova Città, un nuovo metodo rivoluzionario che permetterà di pagare il posteggio senza incorrere in sanzioni. Spesso, infatti, per mancanza di tempo o di monete, si lascia l'auto senza passare dal parchimetro. Adesso tutto sarà più comodo e non ci saranno scuse per non pagare, a meno che il proprietario del cellulare sia senza soldi nella scheda telefonica. Si tratta di uno strumento utile che dovrebbe essere d'aiuto al cittadino. Il sistema prevede l'invio di un SMS a un numero predisposto appositamente. I soldi verranno addebitati nel conto telefonico. Prima della scadenza del parchimetro, un messaggino raggiungerà l'utente avvisandolo dell'imminente scadenza e se vorrà proseguire la sosta potrà aggiungere gli euro necessari. La polizia locale sarà altrettanto dotata di un sistema che in fase di verifica gli permetterà di controllare il pagamento in tempo reale. I posti auto saranno contrassegnati da un numero che dovrà essere indicato nell'SMS.